Buonasera a tutti, mi chiamo Pierfrancesco Costantini e sono Tecnica e Marketing Specialist di Asus Italia. Abbiamo portato qui al Photoshop di Roma il nostro nuovo monitor PA246Q della gamma professionale ProArt dedicato ai professionisti della grafica del fotoritocco. Questo monitor presenta un pannello IPS di altissima qualità, risoluzione 1920x1200, una gamma Adobe RGB del 98%, un'ampia connettività costituita da porte DVI, DisplayPort, VGA e HDMI, un supporto basculante che permette al monitor di essere posizionato in verticale, in modo molto semplice e immediato, e un menu di regolazione dell'immagine particolarmente completo. Abbiamo addirittura, qui come potete vedere, un sistema di griglie in centimetri, in pollici, un particolare sistema di allineamento che sicuramente chi lavora con grafica web e grafica di stampa su carta sarà molto lieto di apprezzare. Buonasera a tutti, arrivederci.